I conflitti in Medio Oriente, le atrocità dell'ISIL, il dramma dei bambini soldato e tante altre fonti di sofferenza e ingiustizia nel mondo sono state al centro della tradizionale benedizione urbi e torbi del Papa nel giorno di Natale. Accolto dal calore della folla in una giornata di sole, Francesco ha parlato di chi è costretto a fuggire dal proprio paese. Siano ricompensati con abbondanti benedizioni quanti singoli e stati si adoperano con generosità per soccorrere e accogliere i numerosi migranti e rifugiati. Non è mancato un forte richiamo del Papa al dramma sociale della disoccupazione. Celebrando la messa di mezzanotte, il Pontefice aveva condannato la società ubriaca di consumismo. Grazie a tutti.